Calcio mercato, Juventus, che problema, Vlaovic blocca l'arrivo di Lukaku, Bonucci aspetta di restare. Benvenuti nel canale. E se ami la Juventus e vuoi rimanere ben informato sulla Juve, iscriviti al canale e clicca il campanello in modo da non perderti nulla. Ne vendi uno, compri l'altro, scambi l'altro. Sembra sempre molto semplice. Eppure, spesso, nel mercato semplice non c'è niente. Prendiamo la Juventus, ha detto a Leonardo Bonucci la sua intenzione di rinunciare e avrebbe fatto lo stesso con Dusan Vlaovic, ovviamente in condizioni molto diverse, ma al momento è bloccato in una sorta di limbo. Parafrasando una frase famosa di Aldo, Giovanni e Giacomo, non può scendere o salire. Cioè, in sostanza, non può commercializzare. Il nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli, presentato ufficialmente ieri pomeriggio alla stampa e agli appassionati, ha reso molto bene il concetto, in questo momento il mercato d'ingresso è chiuso. Questo non significa che sarà per un altro mese e mezzo, significa che per l'arrivo di Timothy Weah per avere una sequela, devono verificarsi determinate condizioni. La vendita dei licenziamenti è appena rientrata dai prestiti in Premier League, per esempio, MC Kenya, Zakaria e Arthur, quest'ultimo in procinto di trasferirsi in Fiorentina. E poi ci sono Vlaovic e Bonucci. Un attaccante per cui la Juve ha venduto solo un anno e mezzo fa e un campione europeo in titolo tradito dall'età. Per quanto riguarda Vlaovic, Giuntoli ha cercato di blefare, stiamo scommettendo molto su di lui. Potremmo pensare di venderlo solo di fronte a un'offerta essenziale. Ma non è un mistero che egli è la pietra angolare di un particolare mercato, per risparmiare, senza i soldi della Champions League e le fatture da mettere in pratica. Il PSG sta spingendo, ma la Juve vorrebbe 80 a 90 milioni per non perdere troppo 18 mesi dopo il boom dell'operazione con la Fiorentina. E Dusan? Non sembra molto interessato a lasciare Torino a suo agio. Tanto che nelle ultime ore l'attaccante serbo ha postato una storia su Instagram con due cuori bianconeri intervallati da una rosa. Piccole cose, considerando il quadro generale del mercato. Ma nel frattempo Romelu Lukac? Grazie a tutti! Grazie a tutti.